a parte quello che è successo o non è successo noi abbiamo fatto la nostra buona partita con la prima in classifica abbiamo creato molte palle gol siamo resi molto pericolosi avevamo anche uno stimolo in più per il nostro compagno pedron che ha perso il padre che sicuramente sai ti dà anche qualcosa in più per un compagno come squadra volerli stare vicino infatti aveva la fascia del capitano oggi e comunque no la squadra anche domenica scorsa e soprattutto questa domenica sicuramente non merita per il gioco che sta esprimendo i punti e la classifica che ha c'è da migliorare un po diciamo così in zona gol c'è da migliorare il ciclo che ha preso l'attacco in le 14 partite sono poche e anche oggi pur creando più del solito avete mancato diverse opportunità da rete mi viene da pensare soprattutto la prima dopo due minuti di gioco quello di Fraschetti che era molto comoda poteva cambiare un po' il corso della partita sì sì sicuramente davanti stiamo facendo molta fatica da trovare il gol sì Fraschetti prima poi Folino che è stata toccata a Tarantino poi Maier sulla riga poi io da solo davanti a Tarantino l'ho tirato all'osso quando gira male gira male gira male anche sotto porta diciamo stiamo facendo fatica e oltre a fare fatica non magari in situazioni che altre volte ti entra non entra deve continuare così perché la prova sicuramente è stata soddisfacente torneremo ad affrontare avversari alla nostra portata e se la mentalità la cattivella e la determinazione è questa sono sicuramente è un grande punto Grazie 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 Grazie